Sei ancora indeciso? Vieni in negozio, siamo a tua disposizione! Ti aspettiamo presso il tuo Fastweb Store? In corso Mazzini 58, Cava dei Tirreni A partire da martedì 1 agosto sarà attiva la linea numero 62 di Bus Italia. Torna dunque il collegamento estivo tra Cava dei Tirreni e Vetri sul mare, dopo tre anni di assenza. In particolare saranno garantite dieci corsi al giorno. La prima corsa da Cava dei Tirreni, con partenza dal capolinea collocato nei pressi del Metropark, adiacente alla stazione ferroviaria, sarà alle 7.20 e l'ultima alle 18.20. Mentre da Vieti Marina il primo autobus partirà alle 7.45 e l'ultimo alle 18.50 verso Cava. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore ai trasporti Antonella Garofalo. Assolutamente un'ottima notizia. Certamente per i cittadini sarebbe stato auspicabile un inizio di questa linea da giugno, però abbiamo ottenuto un primo grande risultato, speriamo poi l'anno prossimo di averla dall'inizio della stagione estiva. È una linea storica che prima era di competenza provinciale, adesso è di competenza regionale e quindi colgo l'occasione per rinnovare nuovamente i ringraziamenti alla Regione e a Bus Italia che è stata disponibile e celere nell'organizzare il servizio. Sono dieci corse andate in ritorno da Cava Marina. È uno strumento molto importante sia per garantire il trasporto sostenibile sia per garantire il trasporto alle persone che hanno comunque una difficoltà economica e per le quali è più difficile muoversi in auto oppure in motorino e pagare parcheggi oppure altre forme di trasporto. Sono contenta di questo risultato onestamente e mi fa molto piacere poterlo comunicare alla città.